Nel recente aggiornamento dei prodotti video di Creative Cloud sono state fatte diverse migliorie all'interno di After Effects, come di Speedgrade, come di Premiere. In particolare in quest'ultimo uno strumento già molto apprezzato come uno strumento di montaggio multicamera è stato ulteriormente migliorato. Vediamo esattamente in quali aspetti e riprendiamo il concetto del montaggio multicamera, che per coloro che di voi non sapessero di cosa sto parlando si tratta sostanzialmente di fare in post-produzione quello che tipicamente fa un regista in sala di regia durante la ripresa di un evento in diretta, in cui chiede naturalmente che il medesimo evento venga ripreso da diverse angolazioni, da diversi punti di vista, switchando da una telecamera ad un'altra. Il montaggio multicamera è esattamente questo, ma in post-produzione. Immaginiamoci quindi che, come effettivamente adesso vi andrò a mostrare, abbiamo ripreso un evento sportivo o di spettacolo, diciamo, attraverso l'ausilio di diverse camere. E ora dobbiamo fare in post-produzione il montaggio della ripresa di tutte queste camere in un'unica soluzione di continuità. Benissimo. Abbiamo qui quindi il nostro browser di progetto con tutte le clip che compongono il mio progetto e tra queste clip posso riconoscere un certo numero che riguardano esattamente il medesimo evento, però ripreso, ripeto, da camere differenti. In particolare partiamo da questa che io vado a selezionare fino a questa qui. Tutte queste clip non sono altro che la ripresa da diverse camere del medesimo evento, che io adesso devo, di cui devo fare l'editing in post-produzione. Bene, per fare questo non basta, non devo fare altro che selezionare col tasto destro del mouse il creare una sequenza multicamera. Anche qui ci sono già, per esempio, rispetto agli inizi delle novità molto interessanti. La prima tra queste è la maniera con cui io posso determinare la sincronizzazione di tutte le tracce, quindi di tutte le clip una rispetto all'altra, perché è fondamentale che ovviamente le clip siano perfettamente allineate al punto di attacco in maniera sincrona, non che una cominci prima o dopo rispetto alle altre, perché altrimenti il montaggio non avrebbe possibilità di essere realizzato. I criteri con cui io posso determinare questo sono basati, per esempio, sul punto di attacco, sul punto di stacco, su un timecode o, in tempi più recenti, abbiamo introdotto anche la possibilità di sincronizzare automaticamente le clip attraverso l'audio. È il caso tipico, per esempio, che avviene quando riprendiamo, che so, un intervistatore, un intervistato e magari entrambi, quindi utilizzando tre camere. La sincronizzazione può avvenire se le telecamere non sono partite contro stesso punto di attacco attraverso la forma d'onda dell'audio, che ovviamente è comune tutte e tre. Determino qual è la traccia di riferimento e le altre si adeguano di conseguenza. Non è questo il caso, lasciamo pure tutto così com'è ed ecco che abbiamo quindi creato la nostra nuova traccia multicamera. Vediamo come si utilizza adesso all'interno di Premiere, come possiamo fare il nostro montaggio. Ritorniamo nella visualizzazione precedente, prendiamo quindi la nostra montaggio multicamera e lo trasciniamo all'interno di una timeline di progetto per creare la nostra sequenza. Molto bene. Un semplice doppio clic mi fa visualizzare all'interno del monitor sorgente tutte le clip che io sto utilizzando per fare il mio montaggio multicamera e se faccio il playback potete vedere che si possono proprio visualizzare contemporaneamente tutte quante. Bene, come le monto quindi adesso all'interno della nostra sequenza? Per fare questo ho necessità di richiamare nella pulsantiera che vedete visualizzate qua in basso nella finestra di programma un pulsante che mi richiama esattamente la visualizzazione del monitor multicamera. La prendo, il mio pulsantino, e lo metto qua pronto per essere utilizzato. Alla sua pressione, come potete vedere, posso visualizzare tutte le tracce che compongono il mio montaggio e quello che sarà poi il risultato del montaggio fatto e finito. Ora, in questo momento, da parte mia, basterebbe, e quello che fra poco farò, di fare un semplice playback, quindi, della mia traccia e cliccare, con la dinamica che più mi interessa, sulle varie sorgenti per fare in tempo reale proprio il montaggio, come se fossi proprio in sala di legia e stessi vedendo un montaggio live. Ma prima ancora di fare questo, vi voglio introdurre un'altra cosa molto interessante, che è stato prodotto proprio all'interno di Premiere, in questa sua ultima edizione, che abbiamo rilasciato a ottobre del 2013, ossia la possibilità di anche editare le camere prima ancora di fare il processo di montaggio. Chiamando proprio Edit Camera, come state vedendo adesso, mi compare questo pannello che mi permette di stabilire, a posteriore, quindi, quale deve essere la sequenza di visualizzazione e di rappresentazione delle mie clip, perché, per esempio, per me sarebbe più importante disporre prima, magari, questa clip piuttosto di questa. E in questo pannello possiamo effettivamente spostare, come vedete, la sequenza delle varie clip una prima dell'altra. Quindi non sono più vincolato a sottostare alla disposizione delle clip come l'ho fatta all'interno della finestra di progetto. Come vedete, se io adesso do un semplice OK, vedete che le clip sono state adesso disposte in una sequenza diversa rispetto a come era in origine. Ma tornando a chiedere il pannello Edit Camera, un'altra cosa ancora più interessante e importante può essere da parte mia la possibilità di disabilitare delle camere, quindi delle angolazioni di visuale che magari non mi interessano, che avevo selezionato inizialmente, ma che poi reputo non utili al montaggio che sto facendo. Bene, in questo momento, quindi, io posso, per esempio, disabilitare, che so, questa traccia piuttosto che non questa, perché all'interno del mio montaggio multicamera, queste proprio non hanno, diciamo, non rientrano nel mio interesse. Bene, fatto questo, sono pronto per fare il mio montaggio multicamera. Mando in playback, quindi, cliccherò sulle varie clip per proprio cambiare la sequenza di montaggio. Il nuovo tipo di ordinamento che ho dato mi aiuta maggiormente ancora a fare il mio montaggio. Ecco che, quindi, adesso la macchina sta per decollare, ecco che decolla, ecco che arriva, ecco che atterra, fa una sgommata, torna qua e abbiamo finito il nostro montaggio. Come lo possiamo vedere, semplicemente disabilitando ora la visualizzazione del monitor multicamera, andiamo pure all'inizio e ci possiamo finalmente, quindi, godere il nostro montaggio multicamera, così come l'abbiamo realizzato in maniera così estemporanea e così immediata. Veramente, veramente molto efficace. Unitamente a questo, posso anche, e questo lo diamo, tra virgolette, per scontato, il fatto che comunque il montaggio multicamera che ho realizzato è ancora suscettibile di qualsiasi tipo di cambiamento. Per esempio, che so, se piuttosto che questa visuale volessi questa, la posso selezionare e sostituirla con un'altra. Quindi, non ci sono sostanzialmente nessun tipo di limitazioni di editing che io possa fare all'interno del mio montaggio multicamera. Le mie clip sono ancora tutte qui e posso fare qualsiasi operazione di editing senza nessun problema, sostituire un angolo di visuale con un altro anche dopo che ho definito il mio montaggio multicamera. Veramente molto efficace e vi ricordo che il numero di camere utilizzabili all'interno di Premiere è infinito, ossia Premiere non stabilisce un limite per il quale io non posso utilizzare, per esempio, 10, 20, 30 camere. Grazie a tutti.